Il cervello non è un computer, contrariamente a quello che comunemente si dice. Computer e cervello non hanno niente in comune l'uno con l'altro. Il computer è un oggetto determinato, sequenziale, che non potrà quindi necessariamente essere creativo. Il computer non ha mai creato nulla. E come si diceva quando ero giovane, è un cretino veloce. Cioè è uno che fa a gran velocità e quindi è adatto per sostituire i burocrati, per esempio, perché fa le stesse cose che i burocrati ci mettono anni a fare, lo fa in breve tempo. Invece il cervello è un oggetto che vaga, che oscilla, che si muove in modo impredicibile a destra e a manca. Le scoperte così accadono. Accadono sulla base di connessioni inattese, che in altri termini sono errori. Diceva Enrico Fermi che se il risultato di un esperimento è conforme alle aspettative, cioè non ci sono stati errori nella progettazione, uno ha fatto una misura. Se invece non è conforme alle aspettative, cioè ci sono stati errori, uno ha fatto una scoperta. Ecco, e questo è il punto fondamentale.